L'unica forma di comunicazione che questa maggioranza ha posto in essere relativamente a favore dei cittadini e relativamente ai lavori in deco della piazza è stata questa affissione del manifesto che recitava inizio lavori 6 ottobre 2014, senza aggiungere null'altro, senza insomma dire null'altro ai cittadini. Ne deriva che questa maggioranza continua a tacere, continua a nascondersi dietro un silenzio assordante e quindi senza dare le risposte che più cittadini, insomma più parti, fanno richiesta. Nessuna comunicazione, tutti quanti noi sappiamo quello che è successo a che settimana fa, questo parere negativo dell'ANAC, quindi dell'anticorruzione, in merito ad una presunta, paventata illegittimità circa la procedura di affidamento del progetto, di fronte a questo parere negativo noi non sappiamo se la maggioranza chiaramente avrà appresentato degli iscritti difensivi, sicuramente sì, avrà fatto richiesta eventualmente audizione, probabilmente sì, ma non sappiamo realmente come si sia conclusa la procedura, con quale provvedimento definitivo. Detto questo, ripeto, è opportuno, sarebbe opportuno dare queste risposte ai cittadini, capire, anche perché insomma io quasi tutti i giorni vengo fermato, molte persone mi dicono ma che sta succedendo con l'ANAC, ma ci potrebbero essere degli strascichi, delle problematiche anche sotto il profilo delle casse comunali. Quindi i cittadini mettono le risposte, quegli stessi cittadini che si sono invece fatti sentire, hanno raccolto mille firme, mille adesioni, hanno chiesto degli incontri pubblici spesso negati, però per fortuna questa loro iniziativa, e quindi grazie a loro, che la sovrintendenza è comunque intervenuta ponendo dei limiti, tant'è vero che oggi basta fare un raffronto, il progetto che si dovrebbe realizzare dalla piazza è completamente diverso rispetto a quello che era stato presentato nel dicembre del 2013. Detto questo, ripeto, la cosa fondamentale è che ancora oggi questa maggioranza è coerente, è coerente nel non rispettare i principi della trasparenza, della comunicazione e soprattutto della lealtà politica. L'unica alleanza che a me interessa e che dovrebbe interessare tutti gli amministratori e tutti quanti i politici è solo e soltanto l'alleanza con i cittadini. Quando inizieremo tutti quanti, amministratori e politici, a capire che l'attività politica, la politica, si fa innanzitutto per gli altri, si fa innanzitutto per i cittadini, non si fa per interessi propri e per interessi personali, allora probabilmente le cose inizieranno a cambiare. Io dico sempre la stessa cosa che è scontata, la politica è responsabilità, è passione e impegno. Chi fa politica sa che deve anche trascurare la propria attività lavorativa, purtroppo spesso anche la famiglia, ma tutto questo torna perché tu lo fai mettendo a disposizione dei cittadini. Oggi noi dobbiamo lavorare per portare Vallo, per far recuperare Vallo, la centralità che aveva qualche anno fa, per far recuperare a Vallo il ruolo che gli compete. Per cui quando si tratta di queste alleanze, ripeto, l'invito mio è a farsi un esame di coscienza, a lavorare non pensando a un anno, anno e mezzo, ma iniziando e continuando a lavorare seriamente già da oggi. Vallo il ruolo